Una buona serata dal Tantam Notizie di Imperietv e da Andrea Pomati. Tragedia lungo l'ex strada militare che da Monesi di Mendatica conduce a Limone e Piemonte. Due donne francesi di 84 e 76 anni sono morte dopo aver fatto un volo di 30 metri mentre viaggiavano a bordo di un fuoristrada insieme ad altre tre persone rimaste ferite, i particolari in un servizio. Due anziane di 84 e 76 anni, entrambe francesi residenti alla Brigue, sono morte ieri mattina in località Navette nell'incidente avvenuto lungo l'ex strada militare che da Monesi di Mendatica conduce a Limone e Piemonte. Entrambe sono state sbalzate fuori dalla vettura. Con loro, a bordo del fuoristrada, finito in una scarpata, viaggiavano altre tre persone. Una donna francese di 64 anni e un uomo italiano di 83 anni. Rimasti feriti gravemente trasportati successivamente al Santa Corona di Pietraligule con l'elicottero del 115 di Genova e un altro uomo elitrasportato all'ospedale Santa Croce di Cuneo dall'elicottero dei Vigili del Fuoco di Alessandria. Sembrerebbe che la vettura fosse impegnata in una manovra quando è scivolata in una scarpata al lato della strada, si è ribaltata ed è rotolata per oltre 30 metri prima di fermarsi. Gli occupanti del fuoristrada sono rimasti così incastrati nell'abitacolo. Sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco del reparto SAF di Imperia e i colleghi del distaccamento di Sanremo. Presenti anche due ambulanze, Croce Rossa di Imperia e Croce Bianca di Pornassio. Dell'incidente è stata informata la Procura. Le salme recuperate sono state trasferite all'obitorio di Ceva per l'autopsia. Nuova operazione della Polizia Municipale di Diano Marina per il contrasto alla vendita abusiva di merci sulle spiagge. Il blitz è scattato stamani e sono state fermate 10 persone, in particolare in un altro servizio. Sono 10 venditori ambulanti abusivi bloccati questa mattina dalla Polizia Municipale di Diano Marina in un nuovo blitz scattato per contrastare il commercio illegale sulle spiagge dianesi. Gli agenti, su direttiva del sindaco Giacomo Chiappori e dell'assessore comunale Luigi Basso, hanno agito anche in borghese per potersi mimetizzare tra i bagnanti senza destare sospetti. Gli ambulanti irregolari e fermati sono cittadini del Marocco, Senegal e Bangladesh. In totale sono stati sequestrati oltre 600 articoli, tra borse, capi di abbigliamento, teli per il mare e occhiali da sole per un valore di diverse migliaia di euro. Gli amministratori comunali dianesi hanno espresso soddisfazione per il lavoro svolto dagli agenti della Polizia Locale. E' stato arrestato a 20 miglia dai carabinieri della stessa città di confine il giovane sospettato di aver ucciso all'alba di ieri Marcello Cenci, 32 anni di Ferrara, che da qualche tempo si era trasferito per lavoro a Valencia. L'ordine di cattura internazionale era stato subito emanato dalla Polizia Spagnola e i carabinieri hanno fermato e sospettato questa mattina la frontiera. Ora si trova rinchiuso nel carcere di Imperie. Due ragazzi di 15 e 22 anni stranieri sono stati denunciati per porto di attrezziati allo scasso e allontanati da Sanremo. I due sono stati fermati dai carabinieri dopo che un passante li aveva riconosciuti come possibili autori di un furto nella sua abitazione. L'uomo infatti li avrebbe identificati grazie alle immagini che aveva visto in precedenza nei video di sicurezza della sua casa. Con l'arrivo di alcuni migranti a Pian della Castagna sotto San Romolo, il problema immigrazione riguarda anche Sanremo. Lo scrive Forza Nuova in una nota nella quale viene fortemente contestata la politica del governo in tema di immigrazione. Gli esponenti di estrema destra evidenziano inoltre che anche l'Unione Europea ha riconosciuto come l'80% dei migranti che giungono in Italia non possono essere definiti profughi. Lutto nel mondo dello spettacolo. È morto a Roma all'età di 84 anni Paolo Villaggio, l'attore genovese divenuto popolare per le sue interpretazioni di Fantozzi e Fracchia. Era stato spesso anche a Sanremo e a Imperia dove fra l'altro aveva ricevuto il premio Groc. Vediamo. È morto a Roma all'età di 84 anni l'attore comico, scrittore, sceneggiatore, doppiatore genovese Paolo Villaggio. Ad annunciarlo è stata la figlia Elisabetta su Facebook dove su una foto del padre giovanissimo ha scritto Ciao papà, ora sei di nuovo libero di volare. Nel 1972 Paolo Villaggio insieme a Silvia Coscina affiancò Mike Buongiorno nella conduzione del 22esimo Festival della Canzone Italiana che si tenne al Salone delle Feste del Casino di Sanremo dal 24 al 26 febbraio. Tale edizione di festival fu organizzata direttamente dal comune di Sanremo mentre Vittorio Salvetti ne ebbe la direzione artistica. Nel 1984 girò sempre a Sanremo anche un film di Sergio Corbucci a Tu per Tu insieme a Gioni Dorelli. Nel 2009 Villaggio tornò nella città dei fiori per partecipare ad un incontro a Villanobel nella serata inaugurale dell'iniziativa letteraria Le Pleasier de Lire. Nel 2011 invece prese parte al Festival Grock di Imperia. È stato un attore poliedrico che ha saputo mettere in scena le frustrazioni del lavoratore e quei tratti di genovesità espressi attraverso un nichilismo esasperato e molto umano. Sicuramente la regione Liguria sulla scia di quanto già fatto per altri Liguri illustri renderà omaggio nella maniera più opportuna a questo grande artista e alla sua eredità. Questo è il cordoglio espresso dall'assessore alla cultura di Regione Liguria Ilaria Cavo per la scomparsa di Paolo Villaggio. Addio a un grande Liguri e a un grande genovese. Con la sua ironia e la sua bravura ha scritto una pagina importante e indeleibile del cinema italiano. Paolo Villaggio ci ha fatto ridere e riflettere come pochi. Un grande vuoto. Ciao Paolo e grazie di tutto. Così il Presidente della Regione Giovanni Toti ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa del popolare attore. Il Consiglio regionale ha approvato l'unanimità a una mozione presentata dal capogruplo della Lega Alessandro Piana per sollecitare l'emanazione di una normativa nazionale a tutela delle vittime di discriminazioni e vessazioni sul lavoro. Il documento sarà inviato nei prossimi giorni ai parlamentari eletti della Liguria. Con la mozione della Lega, approvata dal Consiglio all'unanimità, parte proprio dalla Liguria una battaglia per tutelare le vittime di discriminazioni e vessazioni sul posto di lavoro da parte del datore di lavoro di un superiore gerarchico. Al momento risultano ben 5 i progetti di legge ancora fermi in Parlamento. Tuttavia si stima che siano almeno un milione e mezzo le vittime del cosiddetto mobbing. I dati confermano come preoccupante fenomeno stia assumendo dimensioni rilevanti anche in Liguria. Lo spettro della crisi idrica si profila all'orizzonte nell'imperiese. Il comune di Ponte d'Assio ha emesso un'ordinanza per prevenire gli sprechi. I trasgressori rischiano sanzioni da 50 a 500 euro. Sentiamo. Le scarse precipitazioni degli ultimi mesi iniziano a far sentire i propri effetti. Con un occhio all'immediato futuro, pensando ad un'estate che si prevede non sia delle più piovose. Tramite un'apposita ordinanza così il comune a Ponte d'Assio interviene per prevenire eventuali sprechi idrici. Tra i rischi c'è quello dello scarso riempimento dei serbatoi di accumulo dell'acqua, con il conseguente disagio per la popolazione. Quindi il comune ordina a tutti i cittadini di non utilizzare l'acqua potabile erogata dalla rete comunale di distribuzione per usi diversi, da quello civile e domestico, quali appunto il lavaggio dei cortile e piazzali ed ancora il lavaggio domestico dei veicoli a motore, innaffiamento di giardini, prati ed orti e il riempimento di vasche da giardino, fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua. Per ogni altro uso diverso da quello domestico, i trasgressori pagheranno una sanzione pecunaria da 50 a 500 euro. Pierpaolo Fanzone, già dirigente della Polizia di Frontiera, sarà il nuovo dirigente dell'anticrimine della Questura d'Imperia, mentre Maurizio Stefanizzi sarà il nuovo dirigente del Commissariato di Sanremo. I due funzionari saranno presentati domani dal Questore d'Imperia, Cesare Capocasa. Luci e ombre sulla sanità del ponente Ligure, questo è il titolo dell'incontro pubblico che si svolgerà domani nel Salone dei Congressi Spotorno dell'ospedale Santa Corona di Pietraligure. L'iniziativa è stata organizzata dalla CGL, ce ne ha parlato il segretario generale imperiese, Fulvio Fellegara. Domani alla Sala Spotorno dell'ospedale Santa Corona di Pietraligure, la CGL di Imperia insieme alla CGL di Savona ha organizzato questo convegno che vuole essere una tavola rotonda nella quale abbiamo invitato l'assessore Sonia Viale, che è l'assessore competente, insieme ai rappresentanti dei comuni importanti sul territorio, quali Pietraligure e Ventimiglia, per fare punto sulle politiche sanitarie e aprire un'interlocuzione. Partiamo da quello che è successo negli ultimi mesi, dall'iniziativa presa a gennaio relativa alla privatizzazione degli ospedali di Cairo Montenotte, Albenga e Bordighera, che chiaramente è un'iniziativa che rimane ancora ai titoli iniziali, non vede ancora nel concreto uno svolgimento che ci dia delle certezze su come verrà attuato. Evidentemente noi vorremmo che punto per punto la Regione Liguria e l'assessorato competente si confrontassero per capire nel metodo e nel merito quello che succederà, quali ricadute ci saranno sui nostri siti ospedalieri, come si intende riorganizzare la sanità a livello locale. Si è parlato dell'esistenza o meno della riapertura o meno di un pronto soccorso sull'ospedale di Bordighera, che è un altro fatto assolutamente interessante, che ha un certo appeal dal punto di vista mediatico, ma è bene ricordare che uno pronto soccorso senza un ospedale intorno, senza delle strutture che poi diano dei servizi, diventa uno strumento che ha poca utilità. Quindi si tratta di capire intorno a quest'idea cosa viene costruita. Per fare un esempio banale e molto comprensibile, se una persona ha un problema di oculistica, se va al pronto soccorso di Bordighera ma poi non c'è il reparto qualificato per accoglierlo, diventa semplicemente un transito perché poi viene trasferito negli ospedali vicino. Allora si tratta di capire nel dettaglio quale tipo di offerta sanitaria ha in testa la Regione per le nostre realtà provinciali, per il ponente Ligure che ricordiamo è molto lontano dal centro genovese. L'altro elemento e il motivo per cui siamo a Santa Corona riguarda le notizie di un impoverimento dell'ospedale di Santa Corona che è per noi il primo presidio di eccellenza ospedaliera che troviamo sul territorio. Quindi Santa Corona pur essendo ubicato fuori dalla provincia di Imperia è a tutti gli effetti per noi un ospedale di riferimento e vorremmo capire cosa succede, quali sono le iniziative che riguardano quel sito ospedaliero e trasmettere in maniera ben chiara che quello viene considerato anche dai cittadini di Imperia, anche dalla Camera del Lavoro di Imperia, un presidio ospedaliero importante e di riferimento per il territorio. Quindi siamo lì a posta, abbiamo lavorato congiuntamente con la Camera del Lavoro di Savona perché i temi sono comuni e a fronte di temi comuni è ovvio cercare di dare risposte che vadano insieme e cercheremo di aprire un'interlocuzione, di capire con l'assessore e con le istituzioni presenti quali risposte arriveranno e vedere se da adesso in avanti si potrà fare un confronto serio sul merito nel quale chiaramente porteremo avanti le nostre idee e cercheremo di trovare le soluzioni migliori. Dati positivi per gli incassi del casino di Sanremo, il primo semestre del 2017 si chiude con un segno positivo rispetto al 2016 e il giro di boa del 2017 si attesta a 21,7 milioni di euro. A giugno il casino ha guadagnato 3,1 milioni, i particolari in un servizio. Il casino archivia la prima parte del 2017 confermando il trend positivo rispetto all'anno passato con una leggera crescita dello 0,6%. Ha infatti introitato 21,7 milioni dei quali 5 milioni nei giochi lavorati e 16,7 milioni nei giochi elettromeccanici. I giochi tradizionali hanno raggiunto precisamente quota 4,95 milioni guidati dai tavoli di roulette francese in crescita nel semestre del 5%. Nonostante la bella performance della roulette francese, il gioco lavorato segnala una contrazione nella percentuale di crescita determinata dalla momentanea pausa nella gestione del poker room e al fortunato mese di giugno per alcuni dei nostri clienti ai tavoli di Blackjack e Punto Banco, dove sono state conseguite ottime vincite. L'analisi della performance del semestre al netto del poker sportivo evidenzia una crescita dell'1,6% nel totale introiti della casa da gioco. Le slot machine mostrano un aumento dell'1,7% nei primi sei mesi dell'anno, introitando 16,7 milioni, risultato raggiunto nonostante una pausa nella crescita percentuale degli introiti riscontrata nel mese di giugno, punteggiato dalla caduta di decine di super jackpot. Essi sono stati ben 40 per complessivi 372 mila euro, che hanno premiato sia i nostri affezionati clienti che alcuni vacanzieri, dicono, dalla casa da gioco. Si deve inoltre sottolineare che dopo l'aumento progressivo dei proventi registrato d'aprile e a maggio nei giochi elettromeccanici, il mese appena terminato ha risentito della contrazione delle presenze turistiche nelle sale da gioco. Gli introiti complessivi di giugno si sono fermati a 3,1 milioni di euro, in decremento rispetto allo stesso mese del 2016. Di essi 2,5 milioni sono stati totalizzati nelle sale slot e i rimanenti, 677 mila, in quelle dei giochi tradizionali. Importante appuntamento giovedì mattina a Imperia alle 10.30 presso l'auditorio della Camera di Commercio, dove è previsto un incontro pubblico per analizzare la realtà delle truffe compiute ai danni degli anziani. L'iniziativa è stata organizzata dalla Prefettura di Imperia insieme alla Confartigianato e all'ANAP. All'evento parteciperanno il Procuratore della Repubblica Grazia Pradella e i dirigenti delle Forze dell'Ordine. E anche quest'anno migliaia di persone hanno affollato via i carruggi di Loano per assistere alla tradizionale processione del 2 luglio in onore della visitazione di Maria, suggestivo come sempre nel momento del saluto al mare da parte dei confratelli delle Cappe Turchine. Grazie mille. Il saluto al mare anche ieri sera ha rappresentato il momento più suggestivo della tradizionale processione del 2 luglio di Loano in onore della visitazione di Maria Santissima. La pesantissima arca della visitazione portata a spalle dai confratelli delle Cappe Turchine è stata sollevata in segno di saluto al mare e per chiedere protezione per tutti i pescatori e naviganti. La benedizione è stata impartita da Don Edmondo Bianco, parroco di San Giovanni. Migliaia le persone che hanno assiepato i carruggi e il lungomare di Loano per seguire la processione composta da numerose confraternite provenienti da diverse parti della Liguria con splendidi crocifissi. Il corteo ha poi fatto ritorno in Piazza Italia all'oratorio della Nostra Signora del Rosario da dove era partito accompagnato dalla banda Santa Maria Immacolata di Loano e dalla banda Moretti di Pietraligure. Mercoledì sarà una giornata importante per Ventimiglia sul centro storico dell'amministrazione comunale alle 11.00 infatti dopo anni di chiusura per restauro riaprirà la biblioteca aprosiana antica di via Garibaldi. Sarà anche presentato al pubblico il dipinto transito di San Giuseppe del pittore seicentiesco Giovanni Battista Casoni. La biblioteca sarà aperta il martedì, il giovedì e il sabato dalle 9.00 alle 12.00. All'ingresso sarà aperto un centro di informazioni turistiche tutti i giorni tranne lunedì dalle 10.00 alle 12.00, dalle 16.00 alle 19.00. Volontari di nuova in azione con i gespugliatori per pulire le strade dell'entroterra, questa volta è toccato a Triore, Molini e Triora dove insieme ai sindaci entra in azione anche l'assessore regionale Gianni Berrino. Vediamo. Come di consuetudine i comuni di Molini di Triora e Triora hanno provveduto alla pulizia al diserbo delle strade provinciali e strade comunali che portano alle frazioni. Alla giornata e per il quinto anno consecutivo hanno partecipato oltre 100 volontari e hanno pulito circa 40 chilometri che vanno da Verdeggio al confine con Montalto Ligure. Un'opera meritevole che sostituisce quello che ormai la provincia non può più assicurare per cassezza di risorse. I volontari comunque non possono sostituire quello che dovrebbero fare per la loro funzione gli enti e si auspica pertanto che il governo trovi le risorse necessarie per trasferire anche alla provincia di Imperia almeno l'indispensabile per mettere in sicurezza le strade del nostro entroterra. Tra i volontari i sindaci dei due comuni, tutti i consiglieri e tantissimi cittadini volontari, tra cui l'assessore regionale Giovanni Berrino per sottolineare la sua vicinanza all'entroterra e alle loro difficoltà quotidiane dovute alla mancanza di risorse. Per la regolamentazione del traffico i due comuni hanno potuto contare sull'ausilio dei carabinieri di Triora e della Polizia Provinciale. I volontari hanno poi pranzato tutti insieme degustando quanto preparato dalla proloco di Molini di Triora. Ora riviere 20, poi le notizie dell'autostrada dei Fiori, quindi il quadro meteo fra poco. Grazie a tutti. Per la settimana dal 3 al 9 luglio non sono previsti i cantieri che possano creare particolari disagio alla viabilità lungo l'autostrada dei Fiori, fra Savona e il confine di Stato. Ed eccoci al meteo di Arpa al meteo Liguria. Domani martedì 4 luglio la Liguria resta sotto il dominio dell'anticiclone. Si prevede un'altra giornata serena, appena disturbata da nuvoli ad evoluzione di urna, generalmente innocue sui rilievi. Umidità su valori medio-alti, venti deboli meridionali, direzione variabile con locali brezze. Mare poco mosso, dopodomani mercoledì 5 luglio. Scenario meteorologico invariato, ancora sole, modesti addensamenti promeridiali nell'entroterra. Umidità su valori medi, venti deboli meridionali, locali brezze. mare poco mosso. Ora prima di salutarvi vi dico che salutiamo lasciandovi a un servizio dedicato alla festa di Rudi Caffè e Mosca Bianca di Alassio per la scelta del nuovo volto per le campagne promozionali e di comunicazione del prossimo anno. Quindi un'iniziativa sicuramente originale che adesso guarderemo insieme. A tutti voi l'augurio di trascorrere una buona serata. Arrivederci.